Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato al calciomercato. Prima però è doveroso fare i complimenti all'Atalanta che ci riporta a vincere quella che una volta si chiamava Coppa UEFA, quella che negli anni 90 era il nostro giardino di caccia preferito, il trionfi di tantissimi italiani, tante finali da due squadre italiane, poi il digiuno, la trasformazione della competizione in Europa League, dal 99 ultimo trionfo il 12 maggio all'Uniki di Mosca, il 3-0 del Parma di Malesani, gol di Crespo Vanoli e Enrico Chiesa contro l'Olympique Marsiglia, da allora poi 25 anni di digiuno, un quarto di secolo, una maledizione interrotta ieri dall'impresa straordinaria dell'Atalanta di Gasperini che rompe e ferma a quota 51 gare consecutive di imbattibilità stagionale del Bayer Leverkusen che potrà rifarsi sabato nella finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern ma perde l'Europa League, il trionfo nella notte di Dublino è tutto per la formazione nera azzurra, straordinario Lukman, autore di una tripletta da Cineteca, da Urlo, grandissime prestazioni però di tutti i giocatori, sui discu di Zappacosta, Gym City, insuperabile dietro, grande prestazione in mezzo al campo di Ederson, molto bene anche i Kochminers, insomma Scamacca, autore di un assist, insomma è una grande Atalanta, tanti complimenti e ovviamente però adesso la domanda più gettonata già da ieri sera era quale sarà il futuro di Giampiero Gasperini? Rimarrà Gasperini a Bergamo oppure il tecnico di Grugliasco volerà altrove? Le dichiarazioni sono state un po' sibilline nel post partita a vari emittenti, in alcune è stato propositivo, ha detto tanti vorrebbero vincere, sanno che il momento migliore dopo un trionfo è di andare via, a me piace perdere, quindi è una battuta che fa pensare che possa restare, ha detto anche però è un po' come una sorta nella vita, ha fatto un paragone amoroso, hai una famiglia, una bella moglie con tre figli però poi incontri una bellissima donna che un po' ti fa girare la testa, le fattezze quali sono di questa bellissima donna? Vabbè, i canoni rispondono al Napoli, Aurelio De Laurentiis, il Napoli, il club azzurro, corteggia Gasperini, è un candidato forte Gasperini per la panchina del Napoli, forse per certi aspetti dovrebbe essere anche l'allenatore ideale, nonostante i 66 anni però ha dimostrato di essere uno moderno, uno filosoficamente, calcisticamente avanti, i 10-15 anni, quando Gasperini faceva la difesa 3 la facevano in pochissimi, adesso tutta Europa o quasi i club principali giocano con la difesa 3, lavoro straordinario, Europa League meritatissima per lui e per la Dea, andranno avanti insieme, vedremo, vedremo, perché la sensazione è che l'Atalanta non lascerà andare via Gasperini a cuore leggero, l'Atalanta metterà sul piatto il rinnovo sino al 2026, con l'opzione per il 2027, non escluso che sia direttamente il 2027, 3 milioni e mezza stagione, più tanti, ricchi bonus, per fare di Gasperini sempre più il simbolo centrale, il leader, il trascinatore di una squadra che per otto anni ha fatto cose meravigliose, a Bergamo vorrebbero arrivare almeno a quota 10, ci riusciranno, deciderà Gasper, questo è chiaro, il Napoli però è sullo sfondo, il Napoli aspetta dei segnali, ecco perché il Napoli nel frattempo da giorni ha messo in stampa Antonio Conte, continua a dialogare con l'Italiano, anche lui l'ha prese con una finale, auspichiamoci, auguriamoci che possa fare il bis di trionfi italiani anche la Fiorentina settimana prossima contro l'Olimpiakos, e poi c'è Pioli, Pioli che come vi raccontavo nei giorni scorsi, attenzione a dare per scontata la buona uscita, il Milan manda via Pioli, non è un segreto, ci sarà il tributo meritato dopo 5 anni da parte di San Siro, Milan segernità una sabato sera, probabilmente tra domenica e lunedì verrà annunciato l'addio, probabilmente non andrà neanche in panchina nell'amichevole in Australia il 31 di maggio contro la Roma, lì potrebbe andare a Bonera che allenerà l'Under 23. Però attenzione Pioli, 4 milioni e 2 netti, chi rinuncia a cuore leggero della serie? O mi date tutto quasi, quindi dai 3 milioni in su di buona uscita, oppure io sto qui, sto fermo, se trovo un'altra squadra, bene, può essere Napoli, può essere Bologna, anche se l'italiano è quello che piace di più in questo momento a Sartori, ma l'italiano aspetta anche lui di capire cosa succede a Napoli, potrebbe essere l'Atalanta per il dopo Gasperini? Vedremo, secondo me, un nome che piace molto all'Atalanta per il dopo Gasperini è Raffaele Palladino, Palladino che anche inizia con Aquilani per la panchina della Fiorentina, Aquilani in questo momento è un vantaggio, ma sta risalendo posizioni Palladino, oggi se dovessimo fare delle percentuali 60 Aquilani 40 Palladino, Palladino che però piace molto all'Atalanta per eventualmente per il dopo Gasperini, e quindi tutto dipende da Gasperi, lui l'uomo che può far scattare il Valzer delle panchine, panchine a proposito di Valzer, che forse hanno trovato proprietario a livello internazionale per due di quelle più ambite, quelle più importanti ancora libere, Bayer Monaco, dopo dieci, dico dieci rifiuti, l'undicesimo allenatore contattato potrebbe essere quello giusto, Benzane, company, l'ex capitano del Manchester City, nazionale belga, allenatore del Barley, retrocesso in Championship, ha un contatto di altri quattro anni scadendo il 2028 con il Barley, ha detto sì al Bayern, c'è l'accordo col Bayern, ecco lui non ha detto no a differenza degli altri dieci, lui ha accettato il Bayern, cosa manca? Manca che il Bayern nelle prossime ore, magari già tra oggi e domani, trovi l'accordo, una compensation fee in termini tecnici, ovvero un indennizzo, che paghi un indennizzo al Barley per far sì che il Barley dia il via libera, la risoluzione del contratto col belga, a quel punto company sarebbe allenatore del Bayern, molto probabilmente con un contratto triennale, è una scelta giusta? Ma, vedremo, è allenatore company che aveva fatto bene, emergente, costando il retrocesso, pensate voi se fosse accaduta una cosa del genere in Italia, non oso immaginare cosa si sarebbe scatenato sui social, sui giornali, sui siti, nelle tv, un inferno, pensate a Juve, Milan, Inter, chi volete voi, un top club, che contatta dieci allenatori, viene rifiutato da tutti, anche da tre, quattro nomi non di premessimo piano, va detto, prende alla fine l'undicesimo tecnico contattato, che viene da una retrocessione, affari del Bayern, in bocca al lupo eventualmente a company, se verrà completato questo accordo, però è una scelta che lascia un po' perplessi, perché poi in gioco per l'Europa ci sono tanti allenatori vincenti di prima fascia, in questo momento senza panchina, Antonio Conte, Giuseppe Mourinho, Massimiliano Allegri, Thomas Tuchel in questo caso ha detto lui no a proseguire, quindi è un'altra storia, ma ci sono veramente tanti allenatori di prima fascia. Il Barcellona prende un allenatore di prima fascia, ha accarezzato l'idea Rafa Marquez, la promozione dal Barça B, ma il prescelto è Hansi Flick, l'ex tecnico della nazionale tedesca, l'ex tecnico del Bayern che fece il triplete, Flick ha detto sì, c'è stato un incontro con Deco a Londra, il suo agente Pignizzavi sta chiudendo l'accordo con la porta, Flick è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Barça, a quel punto Xavi verrebbe mandato via, Xavi che comunque in carriera ha vinto una liga, vedremo dove si andrà a riaccasare il tecnico catalano, e dunque veramente un giro clamoroso a livello internazionale di panchine. Chiudiamo con la Roma, la Roma rinnovo in arrivo, manca solo la firma per De Rossi, siano 2027, è già firmato siano 2027, Flick è il nuovo direttore sportivo dei Giallorossi, restiamo nella capitale, il futuro di Luis Alberto. Luis Alberto viene accostato al Napoli, qualcuno ha scritto anche di Juve e di Milan, non risultano contatti con Juve e Milan in questo momento, il Napoli lo stima sì, ma l'offerta che ha in mano Luis Alberto, che l'ha fatto vacillare, che lo fa propendere a dire addio alla Lazio, è quella di un triennale da parte di un club catariota, da 10 milioni a stagione, 10 per 3, 30. Lui la Lazio ha altri 4 anni di contratto a 4 milioni, non gli fate i conti voi, 4 per 4, 16, 10 per 3, 30 è il doppio, è il doppio quello che può andare a guadagnare in Catarica, probabilmente dovrebbe essere l'Alduahil, formazione dove giocava anche Medibia in Atia, su questo ci sto lavorando, ma sicuramente lui a questa offerta dal Catar si è promesso ai catariotica, adesso non trova l'accordo con Lottito, che non fa sconti, vuoi 10-15 milioni per liberare il suo gioiello. Voi cosa fareste al posto di Luis Alberto? Alla fine, qual sarà il futuro del gioiello spagnolo? Cosa ne pensate di Ghisolfi al Roma come direttore sportivo? Il futuro di Pioli? Cosa farà? Starà fermo? Ripartirà? Ditemi la vostra, naturalmente, così come sulle panchine di Barca e Bayern, voglio i vostri pareri, le vostre opinioni, le vostre considerazioni, l'Atalanta, Gasperini, ecco al posto di Gas, cosa fareste? Andresta a Napoli, una nuova grande sfida della carriera, forse l'ultimo treno per allenare una big, oppure dopo questo trionfo rimarresti a Bergamo a giocare comunque la Supercoppa Europea contro una tra Real Madrid più probabili o Borussia Dortmund, continuare il ciclo, fare la nuova Super Champions alla guida dell'Atalanta e perché no, magari provare a vincere un trofeo, magari lottare per lo scudetto. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, naturalmente tutte le vostre domande, opinioni, considerazioni, in alto a destra la campanella da attivare per avere tutte le notifiche in temporale su ciò che viene prodotto e mandato online, qui a sinistra, se vi è piaciuto il video, cliccate sopra il pollicione, mettete il like appunto al video, se vi è piaciuto tanto, perché no, condividetelo su Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, chat, Telegram, Whatsapp, insomma dove vi pare, andate e moltiplicatevi, iscrivetevi al canale, tempo di un respiro, fate click, più siamo, meglio è, più ci divertiamo, siete in tantissimi, numeri veramente clamorosi questa settimana, però insomma si può sempre fare meglio, quindi continuiamo così, da parte mia un grazie per il vostro sostegno, affetto e supporto, e che dire, insomma ci vediamo domani, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, e parte il campionato, stasera l'ultima giornata, quindi anche buon campionato a tutti, ciao!